Oggi sedere al suo posto nel Comitato scientifico diario per me è veramente un honor e una responsabilità. Sono un discípulo di Maldonado e ho apprendito tutto con lui. Durante i miei studi in Berlino realizzé la contribuzione di Maldonado a la scuola di Ulm. La postura della scuola di Ulm è sostentabile antes di lo sostentabile. Tanto nel discurso come nella pratica si apprecia la tensione, entre il disegno come medio per il funzionamento del aparato economico-comercial e il disegno al servizio di un mondo equilibrato. Durante cada encuentro disfruté su capacità intelectual, su generosità e l'apertura al mondo dei senti. è stato, mi animo a dirlo, di Leonardo del siglo XX. La presentazione della scuola di Ulm ha impactato molto per il disegno, perché lo mostrava come qualcosa molto più profondo, più serio, più importante e sicuro, più urgenti di quello che si venivano le foto della rivista che consumiamo in quella epoca. Il stesso diceva, soprattutto negli ultimi tempi, che avrebbe voluto essere ricordato soprattutto come un formatore dedicato ai giovani. Questo è stato una delle sue grandi passioni che lo ha accompagnato tutta la vita. E spero che insieme, nella fiducia della ragione, del progetto capace di grandi sfide e non spaventato della complessità, possiamo portare avanti questa collaborazione, perché abbiamo bisogno di un futuro migliore, ma soprattutto abbiamo bisogno di credere ancora in un futuro e di poterlo determinare bene attraverso la nostra volontà e la sfida per un domani migliore per tutti noi.